Se la domanda superasse il 60%, il sistema di trasporto non sarebbe in grado di garantire il distanziamento senza recare di servizi. A dirlo il presidente del trasporto unico abruzzese, Gianfranco Giuliante. Gli autobus quindi non sono sufficienti per trasportare tutti gli utenti in sicurezza, nonostante la recente disposizione riguardo l'allineamento verticale dei passeggeri, che consente a un maggior numero di persone di salire a bordo. Criticità destinate a diventare più gravi con la riapertura delle scuole. Per questo Giuliante propone di suddividere in turni gli orari scolastici. Ma non solo. Il presidente di Tua chiede che si arrivi all'eliminazione del distanziamento sociale. Le mascherine obbligatorie sono sufficienti, ha dichiarato Giuliante. Insomma, il trasporto pubblico è sull'orlo del collasso e cresce l'esasperazione dei pendolari che si vedono sfilare davanti un mezzo pieno dopo l'altro. E a chi suggerisce di acquistare nuovi autobus, il presidente risponde saltiamo a pie pari questa indicazione, se non altro, ha spiegato Giuliante, per l'impossibilità tecnica di acquisto sul mercato nel breve periodo.